Ciao youtube, ho avuto questo video, ma che cazzo di altri video devo fare? Sì, io non però lascio ci, però la mia squadra che metto questa settimana non sono consigli perché è già iniziato la partita Parma-Atalanta, però se non mi sbaglio, non ho nessun giocatore né del Parma né della Lazio, se il mio amico Gabriele non ha cambiato qualcosa io questa settimana dovrei giocare contro proprio Antonio Nughetto che c'ha immobile che mi sono scambiato immobile con Dybalo in caso io che poi non lo metto nella mecca di tornare, piccolo spolio subito, sì, perché ritornando il fantacalcio, vedete, non è che non ho fatto i video perché non avevo voglia di fare la parte, proprio perché non l'ho fatto il fantacalcio perché non si è fatta, perché mi ero riuscito a rotto il cazzo di scriversi a prima finalmente abbiamo creato l'app, non creato, cioè abbiamo scaricato l'app, tutti quanti abbiamo fatto l'anica e finalmente ci siamo riusciti, ci siamo riusciti, quindi iniziamo subito dalla squadra iniziamo dai portieri, non mi ci importa Ospina perché Skolupski è buona però la sua Bologna non è che ha tutta questa difesa, Reina che non gioca mai, l'unico che ho di buono è proprio David Ospina, il colombiano che sicuramente giocherà poi sarà convocato Meret, però Roma Pro non credo assolutamente che prenda un po' se no di drago comunque se non gioco Ospina vedo chi ha fatto meglio, chi ha giocato tra Reina e Skolupski perché Ospina diciamo che è il portiere migliore di cui c'ho e si è rivelato una scelta azzeccata visto le prestazioni delle ultime giornate cioè raga io non c'ho nessun copione, non c'ho nessun schema davanti perché mi ricordo assolutamente perché mi... chi si scordi più questo evento magnifico andiamo dai difensori, come difensori c'entro l'ho messo Koulibaly e Maximovic, sì mi sono sorpreso perché Maximovic in Champions League sta facendo bene in Champions perché non potrebbe fare bene il campionato c'è da vedere se gioca, se non gioca Maximovic forse è anche probabile però se gioca Maximovic per me fanno una prestazione della madonna Koulibaly non va messo assolutamente, cioè come faccio a non mettere Koulibaly però qualora Maximovic non dovrebbe giocare al 60% per me devo vedere chi ha fatto meglio tra Milenkovic e Koulup perché molte volte metto Koulup mi segna Milenkovic metto Milenkovic mi segna Koulup quindi metto Maximovic che gioca poco rispetto a questi due e quindi vediamo chi avrà fatto meglio qualora il serbo non giovasse poi come terzino a sinistro ho messo la Samoa l'unico terzino a sinistro ho fatto perché come cogliono ho fatto lo scambio con la roba Versalico che sono cioè ora in questo momento avrei tre terzini centrali tre terzini centrali tre terzini destri e un terzino a sinistro quindi benissimo, 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 benissimo poi ho messo la Samoa per me farò bene l'ho messo sulla destra non ho messo Calabria come ho messo sempre però ho messo Berlionico sperando che mi faccia una buona prestazione perché per me gioca non so perché per me gioca e farò pure una buona prestazione che io so, un assist un po' troppo non posso pretendere perché questa non gioca mai però comunque farò una buona prestazione per me a centrocampo metto Allandengolan è vero e tu bene se me lo mette centrocampista non posso fare il modulo cortocortista perché il presidente Gabriele ovviamente io non posso modificare Gabriele vabbè tanto sono cose superficiali comunque a Pari Sicce pure non cambia niente però non l'ho messo perché ho voluto provare Veritut speriamo che Veritut mi faccia bene Pari Sicce farò un altro ripeto allora io ho messo Veritut perché mi ha segnato un'altra volta non è che non si giocava però se il fan del calcio però sempre mi ha segnato sicuramente non lo mettevo Peri Sicce che non mi sto facendo sempre schifo ho detto basta mettiamo Veritut se fa bene me la prendo un del culo però se invece Veritut il segno è veramente una scelta azzeccatissima mi dovete farlo una strada all'anennengolan gli altri compagni di riparto assolutamente avevo pure Paseric e Brozic all'anennengolan vedete che stiamo per là ragazzi c'è una squadra così forte nonostante che faccio schifo che sto facendo schifo speriamo che ora con questa nuova app perché si riparte da capo sperando che faccia bene che cambiano le sorti perché con questa squadra faccio male faccio male anche perché sono buoni giocatori perché tutti quanti che fanno buone prestazioni li metto sempre in panchina questa settimana in attacco veramente ho avuto delle incredibili indecisioni ho messo infine Mertensi, Guain e no immobili ho fatto lo scambio e pionte quindi ho lasciato in panchina di bala caputo di bala caputo e chi altro c'ho di bala caputo cioè raga ma che stiamo a scherzare cioè io ero indeciso tra pionte e che di bala pionte che non l'ha segnato contro il cielo però me la voglio rischiare sinceramente perché pionte che cazzo no pionte che non mi segnerà se non mi segnerà non mi segnerà poi contro chi c'ho che spai contro il contro il cibo no vabbè non mi ricordo comunque tralegendo questo di bala segnalato di bala vabbè vedo che di bala segnalato in Champions e poi approviamo sto pionte e Guain assolutamente va messo assolutamente il mio gioiello è all'auto poi ho messo Mertensi che non mettevo mai però visto che ho segnalato un'ultima partita in campelata ho segnalato Corinthians e Brasilia per me Mertensi si è ripreso e perciò l'ho messo il mio avversario ovviamente non ce l'ho non mi posso però tra i giocatori fenomeni che c'è che sicuramente avrò messo sono Immobile che gli ho scambiato io veramente ho fatto una scelta sbagliatissima sia di Chiesa Perisic sia di Chiesidia sia di Perisic Maron di di bala Immobile veramente perché di bala non mi segno ma invece Immobile già è il capocannoniere della ragazza è uno di capocannoniere il terzo capocannoniere insieme di Insigne della serie della raga veramente di bala invece non mi segno cazzo benissimo sono contentissimo sono contentissimo poi c'è Popo Gomez attenzione io c'ho paura io c'ho paura ragazzi però diciamo che è uno dei più scarsi diciamo con tutti i rispetto poi potrebbe dire la stessa cosa secondo me vabbè ragazzi questo video è finito qui mi raccomando iscrivetevi al canale guarda che taglio di capito che ci ho fatto mettete like noi ci vediamo nel prossimo video ci abbiamo iniziato però ma tanto me la vorrei vedere già l'avevo detto nello scorso video ciao gioventù grazie a tutti i risultati